Ciao a tutti, qualche video fa avevo fatto un video appunto su questi oggetti IoT che stanno arrivando e in questo video volevo farvi vedere appunto un piccolo esempio di come questi oggetti possono parlare senza dover passare dalla loro app proprietaria. Perché fare una cosa del genere? Innanzitutto quando noi utilizziamo quest'app, diciamo, del fornitore di questo kit IoT spesso andiamo a interagire con dei server che sono al di fuori della nostra casa tuttavia alcuni oggetti ci permettono di interagire senza dover dipendere da internet e quindi in questo video volevo farvi vedere appunto come si combinano un po' questi oggetti per poterli rendere più personalizzabili e più controllabili e poi ovviamente anche dal punto di vista della frammentazione ci sono tanti oggetti fatti con tecnologie diverse e quindi il fatto di avere noi il controllo della parte controller di questi oggetti ci permette appunto di fare cose più personalizzate e non dover avere più kit per gestire i vari tipi di sensori. Appunto in questo video vi farò vedere un po' di software e un po' di hardware quello che vedete qui in basso si tratta di questo gateway Xiaomi e l'altro oggetto che ho qui è appunto questo qui che è un peer, quindi un sensore di movimento. Per quanto riguarda il software lo schema più o meno è questo praticamente abbiamo questi sensori che a differenza di altre tecnologie esistenti utilizzano appunto un protocollo che si chiama Zigbee e quindi per interagire con gli apparecchi che abbiamo normalmente abbiamo bisogno di un'app Zigbee che a volte viene chiamato anche gateway e in questo caso è appunto questo componente qua a tondo dopodiché abbiamo bisogno di un'infrastruttura software e normalmente viene utilizzato un server MQTT chiamato anche broker e questo server MQTT sostanzialmente è un po' il controller di tutti gli oggetti IoT quindi sia quelli che parlano tramite Zigbee e poi Wi-Fi sia di magari altri sensori che parlano direttamente in Wi-Fi e sempre questo server MQTT interagisce anche con Node-RED che è appunto questa interfaccia che vi permette di programmare sia con i blocchi ma anche con il codice il tipo di comportamento voluto e ok, quindi vi faccio subito vedere un piccolo demo qui appunto ho scritto colore arancio quindi in questo caso appena schiaccio viene inviato un messaggio MQTT e l'oggetto viene appunto colorato di arancione dopodiché si attiva un altro percorso che è questo qua che quando c'è un cambiamento di colore lui aspetta 5 secondi e poi appunto mette l'azzurro vi faccio vedere un pochino come sono fatti giusto per darvi l'idea qui a sinistra possiamo scegliere diversi tipi di blocchetti non fatevi ingannare perché sembra una cosa tipo scratch in realtà può essere molto complicato come vengono assemblati comunque di fatto qui possiamo scegliere input output addirittura possiamo prendere dati dai social da molte parti e possiamo poi combinarli insieme per creare il comportamento voluto nel caso appunto di questo piccolo demo abbiamo questo colore arancio che sostanzialmente vado a mandare un messaggio formatato in json e questo messaggio lo vado a inviare tramite quest'altro blocchetto che è quello mqtt qui c'è sia quello per inviare mqtt e sia quello per rimanere in ascolto quindi qua appunto va messo il server mqtt che utilizziamo normalmente è un ip e poi c'è la porta in questo caso 1883 e poi quest'altra parte è diciamo la parte più importante ci andiamo ad abbonare anzi andiamo a scrivere su un tipo di topic di argomento mqtt questo argomento diciamo dipende un po' dall'infrastruttura che avete nel mio caso utilizzo questo xiaomi mqtt che ci permette di fare diverse cose appunto va configurato mettendo appunto qui i dati che riguardano l'oggetto xiaomi e questa password è quella che vi viene data quando andate sul gateway appunto zigbee e vi dà la possibilità appunto di appunto poter interagire direttamente con questo oggetto quindi qui ci sono le istruzioni e vi viene data questa password che sostanzialmente è un po' come una chiave di un API per poter interagire ok e quindi una volta fatto questo giro abbiamo la possibilità di interagire con questi oggetti in questo caso qui andiamo a scrivere e per quanto riguarda la ricezione anche qui è simile qui abbiamo appunto il sempre xiaomi in questo caso from anche qua sempre dall'API qui appunto se avessimo anche altri oggetti possiamo interagire allo stesso modo quindi xiaomi from xiaomi to read xiaomi to write e xiaomi to get id list quindi appunto queste cose qua dovete vederle nella documentazione e a seconda dell'oggetto che avete ricevete delle risposte questo heartbeat dice appunto se l'oggetto è attivo e poi appunto a seconda dell'oggetto che avete nel mio caso io ho utilizzato il sensore allora write ok io ho utilizzato appunto questo sensore qui che è quello di movimento e anche qua fa vedere alcuni esempi di come si possono mettere insieme questi blocchi torniamo qui al a node red quindi qui è dove viene gestito appunto l'automatismo che da arancione dopo 5 secondi torna azzurro e appunto vabbè delay e delay e template anche qua andiamo a mettere il diciamo il payload che si aspetta per cambiare il colore e questi colori sostanzialmente li ho presi utilizzando questo oggetto che viene dato dalla libreria di node red c'è un'estensione che si chiama node red dashboard che ci restituisce i colori e il messaggio che viene mandato sostanzialmente è formatato in questo modo qua e il colore viene messo appunto sotto data RGB e a questo punto abbiamo anche la possibilità utilizzando diciamo questa parte qui di avere una rappresentazione un po' meno aggrovigliata e la possiamo vedere andando appunto sotto UI che vi faccio vedere allora me la faccio vedere qui sopra ok diciamo allo stesso grafico che abbiamo visto possiamo interagire anche tramite questa interfaccia che è derivata appunto dal grafico che abbiamo fatto e quindi appena ci muoviamo abbiamo la possibilità di cambiare i colori da questa interfaccia spero che si veda nel video e poi vabbè c'è sempre l'automatismo che è quello che dopo 5 secondi che è stato cambiato un colore torna in azzurro questi blocchetti verdi che invece vedete servono più che altro di debug quindi per vedere effettivamente che cosa accade perché arrivano diversi segnali adesso ho abilitato questo blocchetto verde di debug che sta in ascolto su Xiaomi barra cancelletto che significa qualsiasi messaggio che arriva da questi oggetti lui sta in ascolto quindi come vedete quando noi andiamo a mettere il colore arancione c'è il primo messaggio qui viene specificato l'ID del dispositivo che vogliamo interagire e poi qua viene messo il colore ci viene comunque restituito un altro messaggio che è quello che appunto ci dice che è stato ricevuto e arrivano poi anche altri messaggi che sono appunto sullo stato dell'oggetto dipende qui in questo caso viene mandata un valore che rappresenta l'illuminazione e ovviamente tutte queste cose ci permettono appunto di abbonarci magari a una tipologia di oggetti a una tipologia appunto di segnali e quindi a seconda di quello che accade all'interno del nostro stato IoT possiamo fare determinati comportamenti che potrebbero essere inviare email a certe persone se alcuni sensori hanno certi valori e cose di questo tipo un caso d'uso che mi sembra molto interessante che appunto non vi faccio vedere ma che è assolutamente fattibile ci sono dei software per esempio uno è Motion che ci permettono di registrare le telecamere il problema che ho avuto personalmente è che queste telecamere spesso sono molto sensibili ai cambiamenti di colore e di luminosità specialmente nei momenti in cui non so tramonto oppure alba ci sono diversi lampeggiamenti in determinati momenti della giornata in questo caso se noi facciamo decidere di registrare il movimento non dall'analisi del video ma dall'utilizzo appunto di un peer quindi di un sensore come questo assolutamente non abbiamo questi falsi positivi o falsi negativi che potrebbero esserci e quindi appunto una volta che impostate un ambiente di questo tipo potete veramente sbizzarrirvi all'infinito perché appunto questi oggetti poi possono essere composti in tantissime maniere e anche il fatto di poter debuggare quello che accade è sicuramente una cosa positiva perché appunto sicuramente utilizzare l'app ufficiale è molto facile, molto semplice però se vogliamo fare delle cose che non sono state previste da chi è che ci ha venduto il kit non abbiamo altre possibilità invece in questo modo effettivamente si può fare diverse cose per concludere Heartbeat qui appunto ogni tanto ci viene mandato il messaggio che il gateway è attivo e che dire ogni sensore manda i messaggi a suo modo però è interessante vedere come alla fine tanti oggetti possono parlare tramite MQTT con appunto payload JSON e con questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto e con questo vi saluto e ci vediamo in un altro video ciao a tutti